Lo sviluppo del territorio e dei suoi prodotti agricoli, la crescita economica e la maestria degli chef nel saper sposare i sapori del Vesuvio alle più rinomate ricette di cucina. Tutto questo è stato OFF Ottaviano Food Festival, che nello scorso weekend ha animato il castello mediceo di Ottaviano. Giunta alla terza edizione, la chermesse enogastronomica organizzata dall'associazione culturale Arcobaleno Vesuviano e dall'executive chef, patron di Taverna Vesuviana Alfonso Crisci, ha permesso a cittadini e turisti di compiere un vero e proprio viaggio sensoriale nel mondo del gusto, come spiega lo chef Crisci ai nostri microfoni. Quando abbiamo iniziato si parlava più di un rapporto territoriale, ma ben si già si siamo spostati in parecchie parti d'Italia, quindi l'evento è il terzo anno che lo ripetiamo e cerchiamo sempre di dare il meglio. Tra gli ospiti della serata, Fausto Arrighi, ex direttore della guida Michelin. Ho fatto un omaggio a un grande maestro della cucina italiana, che è Gualtiero Marchesi, quindi ho voluto fare un risotto proprio a ricordo di uno dei più grandi maestri che abbiamo avuto nel nostro paese, è venuto a mancare quest'anno, quindi sono uscito un pochino dal tema. Un anno stop di assaggi e approfondimenti per un vero evento che ancora una volta accende i riflettori sul territorio, di grande importanza e suggestione storica. Soddisfatti il presidente del parco del Vesuvio, Agostino Casillo, e il patron di off, Francesco Carbone. È una manifestazione importantissima, secondo me è una delle più innovative sul tema dell'enogastronomia, perché proprio mette insieme la grande arte degli chef che vengono da tutta Italia qui ad Ottaviano con i prodotti e l'eccellenza del nostro territorio. Ottaviano Food Festival è un contenitore di tante cose, non è solamente una kermesse culinaria, ma ha all'interno più segmenti. In più ha una finalità pro bono, perché quest'anno, come ogni anno, diamo il devoluto e il ricavato della manifestazione alle associazioni, ad Onlus, che fanno beneficenza.